L'asteroide che si tratta verso l'Earth è qualcosa che i scientifici reali preparano a NASA. Il CERN ha annunciato che l'asteroide Apophis colpirà la Terra il prossimo mese. Dopo anni di speculazioni e dibattiti scientifici, la verità è finalmente emersa. Questa rivelazione è monumentale, date le potenziali conseguenze catastrofiche. Ma cosa ha portato a questa previsione scioccante? Quali fattori sconosciuti ci hanno portato a questo limite? Unisciti a noi mentre approfondiamo l'incredibile storia dietro Apophis e sveliamo le verità nascoste che potrebbero cambiare il destino del nostro pianeta. Nel giugno 2004, gli astronomi Roy Tucker, David Tollen e Fabrizio Bernardi stavano effettuando osservazioni di routine presso l'Osservatorio Nazionale di Kitt Peak in Arizona. Durante la loro ricerca di asteroidi bassi nel cielo occidentale, si sono imbattuti in un oggetto che ha immediatamente catturato la loro attenzione. Questo oggetto, poi chiamato Apophis, era insolitamente vicino al Sole rispetto agli asteroidi tipici. Questa scoperta sarebbe presto diventata un punto focale per astronomi e appassionati dello spazio. Perché il nome Apophis? L'asteroide è stato nominato in onore del Dio Egizio del caos e della distruzione, un titolo appropriato dato il suo potenziale minaccia per la Terra. Apophis, noto come il rivale serpentino del Dio Solerà, simboleggiava il caos e l'oscurità nella mitologia antica. Questo nome sinistro racchiudeva perfettamente la paura e l'incertezza intorno alla scoperta dell'asteroide. I calcoli iniziali dell'orbita di Apophis erano allarmanti. Gli scienziati si rapidamente conto che questo asteroide di 370 metri di larghezza aveva una significativa possibilità di colpire la Terra. La stima iniziale suggeriva una probabilità del 2,7% di collisione venerdì 13 aprile 2029. Questo potenziale scenario apocalittico scatenò un'accesa attenzione dei media e alimentò numerose teorie della cospirazione sul fine del mondo. Cosa accadrebbe se Apophis colpisse effettivamente la Terra? L'impatto libererebbe un'energia equivalente a oltre 1000 megatoni di trinitrotoluene, superando di gran lunga le esplosioni nucleari più potenti. Questo evento catastrofico causerebbe una distruzione diffusa, una massiccia perdita di vite e danni ambientali duraturi. La paura di un tale impatto afferrò il pubblico e la storia di Apophis divenne un argomento ricorrente nelle discussioni sui potenziali minacce degli asteroidi. Nonostante il panico iniziale, la NASA e altre agenzie spaziali hanno lavorato instancabilmente per affinare i loro calcoli e previsioni. Col tempo hanno raccolto più dati e migliorato la loro comprensione della traiettoria di Apophis. Nel 2006 la NASA dichiarò che la probabilità di un impatto nel 2029 era estremamente bassa, rassicurando il pubblico che l'asteroide sarebbe stato semplicemente uno spettacolo spettacolare nel cielo. La curiosità e la preoccupazione per Apophis non sono mai completamente svanite. Gli scienziati hanno continuato a monitorare il suo percorso, consapevoli che qualsiasi piccolo cambiamento nella sua orbita potrebbe alterare la sua traiettoria futura. Questa vigilanza continua era importante, poiché Apophis era previsto per effettuare un altro avvicinamento ravvicinato alla Terra nel 2036. Ancora una volta i calcoli hanno mostrato che il rischio di impatto era minimo, ma l'asteroide rimaneva sotto stretta osservazione. Ma come siamo arrivati alla previsione attuale di un impatto il mese prossimo? Quali nuove informazioni ha scoperto il CERN che hanno portato a questa rivelazione allarmante? Riflettendo sulla storia di Apophis, è chiaro che questo asteroide è sempre stato avvolto in un misto di intrigo scientifico e paura pubblica. La sua scoperta, il nome e le prime previsioni di minaccia, hanno preparato il terreno per la situazione attuale. La storia di Apophis è tutt'altro che conclusa e il prossimo capitolo potrebbe essere il più critico fino ad ora. Alla luce della sconvolgente rivelazione del CERN che Apophis impatterà la Terra il mese prossimo, è necessario comprendere cosa sono gli asteroidi e come si comportano. Questa conoscenza ci aiuta a capire la gravità della situazione. Allora, cosa sono esattamente gli asteroidi e come si confronta Apophis con altre rocce spaziali? Gli asteroidi sono resti rocciosi privi di atmosfera della formazione primitiva del nostro sistema solare circa 4,6 miliardi di anni fa. Questi oggetti celesti, spesso chiamati pianeti minori, orbitano attorno al Sole proprio come i pianeti, ma sono molto più piccoli. La maggior parte degli asteroidi conosciuti si trova nella cintura di asteroidi, una regione tra Marte e Giove. Quest'area è popolata da migliaia di queste rocce spaziali che variano in dimensione da piccoli ciottoli a enormi massi. Ma come si differenziano gli asteroidi dai meteoriti e dai meteoriti? Analizziamolo. Un meteoro è una roccia spaziale che entra nell'atmosfera terrestre. Mentre brucia a causa dell'attrito con l'aria, crea una brillante scia di luce, comunemente conosciuta come stella cadente. Se una parte del meteoro sopravvive al viaggio attraverso l'atmosfera e atterra sulla Terra, viene chiamata meteorite. Al contrario, gli asteroidi rimangono nello spazio e orbitano attorno al Sole, entrando raramente in contatto con la Terra. Ora concentriamoci su Apophis. Questo asteroide particolare si distingue per le sue dimensioni significative e la sua traiettoria allarmantemente vicina alla Terra. Apophis misura circa 370 metri di diametro, più o meno l'altezza dell'Empire State Building. Questo lo rende uno dei più grandi asteroidi ad essersi avvicinati al nostro pianeta. Quindi, quanto vicino si prevede che arrivi Apophis? La traiettoria di Apophis lo avvicina a circa 30.000 miglia dalla superficie della Terra. Per mettere questo in prospettiva, è più vicino di alcuni dei nostri satelliti in orbita intorno alla Terra. Una tale prossimità solleva serie preoccupazioni riguardo alla possibile influenza gravitazionale del nostro pianeta che potrebbe alterare il percorso di Apophis, aumentando la probabilità di un impatto. L'annuncio del CERN ha suscitato nuove preoccupazioni e voci su quanto siamo ben equipaggiati per affrontare questo tipo di minaccia. A causa delle sue dimensioni del suo percorso, l'asteroide è un nemico pericoloso che deve essere evitato o attenuato rapidamente con azioni concertate. Ma quali misure sono in corso per affrontare questa minaccia imminente? Quali tecniche e innovazioni stanno venendo create per proteggere il nostro pianeta? Comprendere la natura degli asteroidi e le caratteristiche specifiche di Apophis è significativo mentre affrontiamo questa crisi imminente. Più sappiamo su queste rocce spaziali, meglio siamo equipaggiati per ideare meccanismi di difesa efficaci. La rivelazione che Apophis dovrebbe impattare la Terra? Il mese prossimo sottolinea l'importanza della vigilanza scientifica e della preparazione. La scala della distruzione sarebbe senza precedenti. Per metterlo in prospettiva, considera il cratere del meteorito in Arizona, creato da un asteroide molto più piccolo circa 50.000 anni fa. Quell'impatto ha liberato un'energia equivalente a 10 megatoni di trinitrotoluene e ha lasciato un cratere di quasi 1,2 km di diametro. Ora immagina un impatto più di 100 volte più potente. L'evento di Tunguska nel 1908, che ha appiattito oltre 2.000 km quadrati di foresta in Siberia, è stato causato da un'esplosione di asteroide nell'atmosfera con un rilascio di energia stimato tra 10 e 15 megatoni. L'impatto di Apophis supererebbe entrambi questi eventi in termini di energia e distruzione. Gli effetti immediati dell'impatto sarebbero catastrofici. Un'enorme onda d'urto si irradia dal sito dell'impatto, distruggendo edifici, infrastrutture e causando incendi diffusi. Il calore intenso e la pressione incenerirebbero istantaneamente tutto nelle vicinanze. Ma la devastazione non finirebbe lì. L'impatto espellerebbe enormi quantità di polvere e detriti nell'atmosfera, bloccando la luce solare e portando a un drastico abbassamento delle temperature a livello globale, una situazione nota come inverno da impatto. E le conseguenze globali? L'impatto ambientale sarebbe severo. Il raffreddamento improvviso della superficie terrestre altererebbe i modelli climatici, portando a fallimenti nei raccolti e carenze alimentari. La riduzione della luce solare ostacolerebbe la fotosintesi, influenzando la vita vegetale e marina e sconvolgendo gli ecosistemi. La pioggia acida potrebbe derivare dal materiale vaporizzato, danneggiando ulteriormente l'ambiente. Avrebbe effetti terribili. Le aree colpite soffrirebbero enormemente a causa della perdita immediata di vite e dei danni alle infrastrutture. Il commercio, l'industria e i mercati finanziari verrebbero tutti interrotti, danneggiando l'economia mondiale. Sarebbero necessarie risorse massicce per gli sforzi di recupero, imponendo un onere sui governi e sulle agenzie di assistenza internazionale. Molti paesi potrebbero entrare in recessione o addirittura collassare a causa del costo della ricostruzione e degli effetti a lungo termine sull'economia. Le conseguenze sarebbero intense. La perdita di milioni di vite e la distruzione delle comunità porterebbero a un lutto e a un trauma diffusi. Lo spostamento delle popolazioni creerebbe una crisi dei rifugiati, con milioni in cerca di sicurezza e risorse. L'ordine sociale potrebbe crollare di fronte a una devastazione e a una scarsità così diffuse. I governi sarebbero sfidati a mantenere la stabilità e a provvedere ai loro cittadini in mezzo al caos. Come risponderebbe l'umanità a una catastrofe del genere? La cooperazione internazionale prevalerebbe o le nazioni si ritirerebbero, concentrandosi sulla propria sopravvivenza? Queste domande sottolineano la necessità di preparazione globale e cooperazione di fronte a minacce esistenziali. L'impatto potenziale di Apophis è un severo promemoria della vulnerabilità del nostro pianeta e dell'importanza di essere pronti a tali eventi. È necessario pensare alle azioni che possiamo intraprendere per ridurre questi rischi e prepararci al peggior scenario mentre continuiamo a investigare le conseguenze della dichiarazione del CERN. Quali misure stanno venendo adottate per proteggere il nostro pianeta? Come possiamo prepararci meglio agli effetti futuri? Unisciti a noi mentre esploriamo le tattiche e le innovazioni che potrebbero proteggere l'umanità da tali eventi devastanti. La difesa planetaria si basa su una combinazione di rilevamento, monitoraggio e strategie di mitigazione dell'impatto. Uno dei principali sistemi in atto è l'ufficio di coordinamento della difesa planetaria della NASA. L'ufficio di coordinamento della difesa planetaria è responsabile della rilevazione, del tracciamento e della caratterizzazione degli oggetti potenzialmente pericolosi che si avvicinano alla Terra. Utilizzando una rete di telescopi terrestri, tra cui il Pan-STARRS e il Catalina Sky Survey, gli scienziati possono identificare e monitorare le traiettorie degli asteroidi. Ma la rilevazione è solo il primo passo. Cosa succede se un asteroide è in rotta di collisione con la Terra? Una delle tecniche più promettenti è la tecnologia dell'impatto cinetico. Questo implica l'invio di una navetta spaziale per collidere con l'asteroide ad alta velocità, alterando così la sua traiettoria. La missione Double Asteroid Redirection Test, lanciata dalla NASA, mira a dimostrare questa tecnica colpendo il satellite dell'asteroide di Morphos. Il successo del Double Asteroid Redirection Test potrebbe aprire la strada a future missioni di deviazione. Guardando al futuro, le agenzie spaziali stanno sviluppando tecnologie più avanzate per affrontare la minaccia degli asteroidi. Uno dei progetti più ambiziosi è la missione era dell'Agenzia Spaziale Europea, che seguirà l'impatto del Double Asteroid Redirection Test per studiarne gli effetti in dettaglio. Comprendendo come è stata alterata la traiettoria dell'asteroide, gli scienziati possono affinare i loro modelli e migliorare le tecniche di deviazione future. Un altro approccio innovativo in fase di esplorazione è l'uso dei trattori gravitazionali. Questo metodo prevede il posizionamento di una navetta spaziale vicino all'asteroide, utilizzando la sua attrazione gravitazionale per cambiare lentamente la traiettoria dell'asteroide nel tempo. Questa tecnica richiede calcoli precisi e pianificazione a lungo termine, ma offre un modo non distruttivo per prevenire gli impatti. Le opzioni nucleari sono anche in discussione, sebbene siano considerate un'ultima risorsa. Utilizzare un'esplosione nucleare vicino all'asteroide potrebbe cambiare la sua traiettoria, ma questo metodo comporta rischi e incertezze significativi. Il potenziale di rompere l'asteroide in più frammenti pericolosi deve essere attentamente considerato. Anche se questi avanzamenti tecnologici sono cruciali, la consapevolezza e la preparazione pubblica svolgono un ruolo altrettanto importante. Comprendere la minaccia rappresentata dagli asteroidi e sapere cosa fare in caso di impatto può salvare vite. I governi e le agenzie spaziali devono dare priorità all'educazione del pubblico su questi pericoli. Cosa dovrebbe sapere il pubblico? Innanzitutto non si può sottovalutare l'importanza di rimanere informati tramite fonti affidabili. Le informazioni fuorvianti e le teorie del complotto possono causare panico inutile e ostacolare gli sforzi di risposta efficaci. Agenzie come la NASA e l'ESA forniscono informazioni aggiornate e precise su minacce potenziali e sforzi di mitigazione. La preparazione alle emergenze è altrettanto necessaria. Le comunità dovrebbero avere piani in atto per una possibile evacuazione o rifugio in caso di impatto. Esercitazioni regolari e campagne di educazione pubblica possono aiutare a garantire che le persone sappiano come rispondere rapidamente ed efficacemente. Negli ultimi anni le agenzie spaziali di tutto il mondo hanno compiuto progressi significativi nella rilevazione e osservazione degli asteroidi. Uno dei progressi più notevoli è il dispiegamento di telescopi e sistemi radar avanzati che consentono agli scienziati di monitorare gli oggetti vicini alla Terra con una precisione senza precedenti. Il telescopio di indagine panoramica e sistema di risposta rapida alle Hawaii, ad esempio, ha rivoluzionato la nostra capacità di rilevare e monitorare gli asteroidi. Questo potente telescopio scansiona il cielo ogni notte, catturando immagini ad alta risoluzione che aiutano a identificare e tracciare gli oggetti potenzialmente pericolosi. Un altro sviluppo innovativo è la missione NEOWISE della NASA. Lanciata originariamente come telescopio spaziale a infrarossi per studiare galassie lontane, NEOWISE è stata riconvertita per cercare oggetti vicini alla Terra. Utilizzando la tecnologia infrarossa può rilevare il calore emesso dagli asteroidi, anche da quelli troppo scuri per essere visti con i telescopi ottici tradizionali. Questa capacità ha notevolmente aumentato la nostra conoscenza delle dimensioni, della composizione e delle traiettorie degli asteroidi, incluso Apophis. La collaborazione internazionale è fondamentale per la difesa planetaria. Le agenzie spaziali di tutto il mondo stanno lavorando insieme per condividere dati, risorse e competenze. Un esempio principale è la missione di valutazione dell'impatto e deviazione degli asteroidi, uno sforzo congiunto tra la NASA e l'Agenzia Spaziale Europea. Questa missione ha lo scopo di testare la nostra capacità di cambiare la traiettoria di un asteroide, utilizzando una navetta spaziale per colpire l'asteroide. La navetta Double Asteroid Redirection Test della NASA impatterà il satellite dell'asteroide Dimorphos, mentre la missione Era dell'ESA seguirà con osservazioni dettagliate del sito d'impatto e dei suoi effetti. Un altro sforzo collaborativo è la Rete Internazionale di Allerta Agli Asteroidi. Questa rete globale di agenzie spaziali, osservatori e istituti di ricerca coordina la rilevazione e il monitoraggio degli oggetti vicini alla Terra. Condividendo informazioni e osservazioni in tempo reale, la Rete Internazionale di Allerta Agli Asteroidi migliora la nostra capacità di prevedere impatti potenziali e sviluppare strategie di risposta efficaci. Oltre alla rilevazione e deviazione, scienziati e ingegneri stanno esplorando soluzioni innovative per mitigare le minacce degli asteroidi. Un'idea promettente è la miniera di asteroidi. Estraendo risorse preziose dagli asteroidi, potremmo ridurre la minaccia che rappresentano e sostenere anche l'esplorazione spaziale e l'industria. Aziende come Planetary Resources e Deep Space Industries stanno sviluppando tecnologie per estrarre acqua, metalli e altri materiali dagli asteroidi. Questo potrebbe fornire risorse essenziali per costruire navette spaziali e habitat, riducendo la nostra dipendenza dalle risorse finite della Terra. Un altro approccio è il CERN. Ha annunciato che l'asteroide Apophis colpirà la Terra il prossimo mese. Dopo anni di speculazioni e dibattiti scientifici, la verità è finalmente emersa. Questa rivelazione è monumentale, date le potenziali conseguenze catastrofiche. Ma cosa ha portato a questa previsione scioccante? Quali fattori sconosciuti ci hanno portato a questo limite? Unisciti a noi mentre approfondiamo l'incredibile storia dietro Apophis e sveliamo le verità nascoste che potrebbero cambiare il destino del nostro pianeta. Nel giugno 2004, gli astronomi Roy Tucker, David Tollen e Fabrizio Bernardi stavano effettuando osservazioni di routine presso l'Osservatorio Nazionale di Kitt Peak in Arizona. Durante la loro ricerca di asteroidi bassi nel cielo occidentale, si sono imbattuti in un oggetto che ha immediatamente catturato la loro attenzione. Questo oggetto, poi chiamato Apophis, era insolitamente vicino al Sole rispetto agli asteroidi tipici. Questa scoperta sarebbe presto diventata un punto focale per astronomi e appassionati dello spazio. Perché il nome Apophis? L'asteroide è stato nominato in onore del dio egizio del caos e della distruzione, un titolo appropriato dato il suo potenziale minaccia per la Terra. Apophis, noto come il rivale serpentino del dio Solerà, simboleggiava il caos e l'oscurità nella mitologia antica. Questo nome sinistro racchiudeva perfettamente la paura e l'incertezza intorno alla scoperta dell'asteroide. I calcoli iniziali dell'orbita di Apophis erano allarmanti. Gli scienziati si resero rapidamente conto che questo asteroide di 370 metri di larghezza aveva una significativa possibilità di colpire la Terra. La stima iniziale suggeriva una probabilità del 2,7% di collisione venerdì 13 aprile 2029. Questo potenziale scenario apocalittico scatenò un'accesa attenzione dei media e alimentò numerose teorie della cospirazione sul fine del mondo. Cosa accadrebbe se Apophis colpisse effettivamente la Terra? L'impatto libererebbe un'energia equivalente a oltre 1000 megatoni di trinitrotoluene, superando di gran lunga le esplosioni nucleari più potenti. Questo evento catastrofico causerebbe una distruzione diffusa, una massiccia perdita di vite e danni ambientali duraturi. La paura di un tale impatto afferrò il pubblico e la storia di Apophis divenne un argomento ricorrente nelle discussioni sui potenziali minacce degli asteroidi. Nonostante il panico iniziale, la NASA e altre agenzie spaziali hanno lavorato instancabilmente per affinare i loro calcoli e previsioni. Col tempo hanno raccolto più dati e migliorato la loro comprensione della traiettoria di Apophis. Nel 2006 la NASA dichiarò che la probabilità di un impatto nel 2029 era estremamente bassa, rassicurando il pubblico che l'asteroide sarebbe stato semplicemente uno spettacolo spettacolare nel cielo. La curiosità e la preoccupazione per Apophis non sono mai completamente svanite. Gli scienziati hanno continuato a monitorare il suo percorso, consapevoli che qualsiasi piccolo cambiamento nella sua orbita potrebbe alterare la sua traiettoria futura. Questa vigilanza continua era importante, poiché Apophis era previsto per effettuare un altro avvicinamento ravvicinato alla Terra nel 2036. Questi film spesso rappresentano sforzi eroici per salvare il pianeta, riflettendo le nostre speranze e ansie riguardo a come affrontare tali minacce esistenziali. Il problema degli impatti di asteroidi è stato anche esplorato nella letteratura e nei media, con un focus sulle difficoltà emotive e scientifiche che sorgono in tali circostanze. Queste rappresentazioni culturali possono influenzare la percezione pubblica e la comprensione dei rischi, nonché l'importanza degli sforzi scientifici e governativi per mitigarli. La fascinazione per gli impatti di asteroidi si estende anche alla scienza popolare. Documentari e programmi educativi esplorano frequentemente la storia degli impatti e gli sforzi continui per rilevare e deviare asteroidi pericolosi. Questo interesse diffuso aiuta a sensibilizzare e sostenere le iniziative di difesa planetaria. La preparazione per un impatto di asteroide richiede sforzi coordinati a più livelli. I governi devono guidare l'iniziativa sviluppando e implementando piani di risposta ai disastri completi. Questi piani dovrebbero includere sistemi di allerta precoce, protocolli di evacuazione e strategie di comunicazione pubblica. Esercizi e simulazioni regolari possono aiutare a garantire che tutti sappiano cosa fare in caso di impatto. A livello comunitario, i governi locali e le organizzazioni dovrebbero collaborare per educare i residenti sulla minaccia potenziale e sui passaggi necessari per la preparazione. Questo include l'identificazione di rifugi sicuri, l'accumulo di forniture essenziali e l'istituzione di reti di comunicazione per mantenere informata la popolazione durante una crisi. Ma come possono prepararsi gli individui? Rimanere informati attraverso fonti affidabili è cruciale. Conoscere i rischi e comprendere le azioni raccomandate può fare una differenza significativa in caso di crisi. Creare un piano di emergenza personale, che includa percorsi di evacuazione e contatti di emergenza, può anche aiutare a garantire la sicurezza e una risposta rapida. Vivere sotto la minaccia di un impatto di asteroide può avere effetti psicologici intensi. La paura costante di un possibile disastro può portare ad ansia, stress e persino depressione. È essenziale affrontare queste sfide di salute mentale per mantenere il benessere generale. Come possiamo affrontare questo carico psicologico? Una strategia efficace è rimanere connessi con amici, familiari e membri della comunità. Le reti di supporto sociale possono fornire conforto emotivo e assistenza pratica durante i momenti stressanti. Partecipare a un'attività fisica regolare e mantenere uno stile di vita sano può aiutare a ridurre i livelli di stress. Le risorse per la salute mentale devono anche essere facilmente accessibili. Per aiutare le persone a gestire la loro preoccupazione e terrore, i governi e i fornitori di assistenza sanitaria dovrebbero offrire consulenza e altre forme di supporto. Le campagne di sensibilizzazione pubblica possono ridurre lo stigma associato ai problemi di salute mentale e incoraggiare le persone a cercare aiuto. Costruire resilienza è fondamentale per garantire una rapida ripresa dopo l'impatto. La resilienza implica la capacità di adattarsi e riprendersi dai disastri, minimizzando i danni e le interruzioni a lungo termine. Un aspetto critico della resilienza è l'infrastruttura. Costruire edifici e infrastrutture capaci di resistere a impatti significativi può ridurre le vittime e i danni. Questo include l'uso di materiali durevoli, il rinforzo delle strutture e la pianificazione delle aree urbane per minimizzare il rischio. Un altro fattore importante è la resilienza economica. Diversificare le economie e creare reti di sicurezza finanziaria robuste possono aiutare le comunità a riprendersi più rapidamente dai disastri. I governi possono sostenere le imprese e i lavoratori tramite sovvenzioni, prestiti e schemi assicurativi progettati per fornire stabilità finanziaria durante i periodi di recupero. La resilienza della comunità è altrettanto importante. Le comunità forti e connesse sono meglio in grado di sostenersi a vicenda durante e dopo un disastro. Promuovere il coinvolgimento della comunità, favorire la leadership locale e costruire reti di supporto possono migliorare la capacità di una comunità di riprendersi. L'istruzione e la formazione svolgono un ruolo cruciale nella costruzione della resilienza. Fornire educazione sulla preparazione e risposta ai disastri, nonché formazione per i servizi di emergenza, può garantire che tutti siano in grado di gestire le crisi in modo efficace. I programmi che insegnano competenze come il primo soccorso, la ricerca e il salvataggio e la gestione delle crisi possono responsabilizzare individui e comunità. Data la gravità dell'imminenza di Apophis, dobbiamo pensare oltre alla difesa planetaria e verso il destino più ampio dell'esplorazione spaziale. Quali sono i nostri obiettivi a lungo termine? Come possiamo assicurarci che ciò che stiamo facendo duri e benefici a tutta l'umanità? Inoltre, come potrebbe la paura degli asteroidi accelerare i nostri obiettivi di colonizzazione dello spazio e di stabilire vita interplanetaria? L'esplorazione spaziale ha un futuro luminoso e ambizioso. Oltre a difendere il nostro pianeta dagli impatti degli asteroidi, le agenzie spaziali e le aziende private stanno puntando a nuove frontiere. Uno degli obiettivi principali è l'esplorazione di Marte. Il programma Artemis della NASA punta a riportare gli esseri umani sulla Luna entro il 2024 come trampolino di lancio per future missioni su Marte. Stabilire una presenza umana sostenuta su Marte è uno sforzo scientifico, ma un salto monumentale per l'umanità. Le missioni verso i pianeti esterni e le loro lune, come Europa e Titano, sono all'orizzonte. Queste missioni mirano a scoprire i misteri del nostro sistema solare e cercare segni di vita. L'esploratore delle lune ghiacciate di Giove dell'Agenzia Spaziale Europea e l'Europa Clipper della NASA sono esempi di missioni imminenti che esploreranno questi mondi lontani. Man mano che spingiamo i confini dell'esplorazione spaziale, è imperativo garantire che i nostri sforzi siano sostenibili. Le pratiche spaziali sostenibili implicano la minimizzazione dell'impatto ambientale delle attività spaziali, sia sulla terra che nello spazio. Questo include la gestione dei detriti spaziali, l'uso di fonti di energia rinnovabili e lo sviluppo di tecnologie che riducono i rifiuti. L'uso di razzi riutilizzabili, avviato da aziende come SpaceX, è un passo significativo verso i viaggi spaziali sostenibili. I razzi riutilizzabili riducono il costo del lancio delle missioni e minimizzano l'impatto ambientale della produzione di nuovi razzi per ogni lancio. La sostenibilità significa anche garantire che l'esplorazione spaziale benefici l'umanità. Questo include promuovere la cooperazione internazionale, condividere conoscenze scientifiche e favorire l'uso pacifico dello spazio. Progetti collaborativi come la Stazione Spaziale Internazionale esemplificano come i paesi possono lavorare insieme per il bene comune, conducendo ricerche che avvantaggiano tutta l'umanità. Il pericolo imminente degli impatti di asteroidi ha portato l'attenzione sulla necessità per l'umanità di riflettere più attentamente sulla colonizzazione spaziale. In caso di un evento catastrofico sulla Terra, stabilire colonie su altri pianeti e lune potrebbe garantire la sopravvivenza della nostra specie e fungere da cuscinetto contro le minacce esistenziali. Marte è il candidato più probabile per la colonizzazione spaziale. Con il suo ambiente relativamente abitabile e il potenziale per la terraformazione, Marte offre un'opzione valida per una seconda casa per l'umanità. Aziende come SpaceX stanno già lavorando allo sviluppo delle tecnologie necessarie per trasportare e mantenere la vita umana su Marte. La navetta spaziale Starship, progettata per viaggi nello spazio profondo, è una parte cruciale di questi piani. Oltre a Marte, il concetto di habitat spaziali, strutture artificiali in grado di supportare la vita umana nello spazio, sta guadagnando attenzione. Progetti come i cilindri di O'Neill, prevedono grandi habitat rotanti che potrebbero ospitare migliaia di persone. Questi habitat creerebbero gravità artificiale tramite rotazione e potrebbero essere situati in orbita attorno alla Terra o ad altri corpi celesti. La miniera di asteroidi gioca anche un ruolo nella colonizzazione spaziale. Estraendo risorse dagli asteroidi, possiamo sostenere la costruzione di habitat spaziali e fornire materiali per costruire infrastrutture su altri pianeti. Questo approccio riduce la necessità di trasportare risorse dalla Terra, rendendo la colonizzazione spaziale più fattibile e sostenibile. Il futuro dell'esplorazione spaziale è pieno di possibilità incredibili. Dall'esplorazione di pianeti lontani all'istituzione di colonie nello spazio, i nostri obiettivi sono ambiziosi e di vasta portata. Garantire che questi sforzi siano sostenibili e benefici per l'umanità è cruciale. La minaccia di impatti di asteroidi come Apophis sottolinea l'importanza di espandere la nostra presenza al di là della Terra e sviluppare tecnologie che possano proteggerci e sostenerci.